Siamo qui con Emily Bontà del Pesce, capitana, è arrivata una vittoria per 3 a 1 contro da Robur Massa, ma che fatica, insomma, una gara in cui i primi 27 vinti facilmente, però poi dopo Massa è voluta fuori e si è riscato il quinto set, insomma. Allora, sì, diciamo che inizialmente sarà messa abbastanza semplice, diciamo, però siamo anche preparate a questa tipologia di partite, perché questo campionato per noi è devastante, cioè nel senso sono tutti scontri diretti, ora è partito il giorno di ritorno, per noi ogni scontro è diretto, quindi sì, magari un pochino più semplice, perché va bene, è normale, però con delle difficoltà, ecco, quello sì, quello sì, cioè ci si aspettano per ogni partita, noi cerchiamo di fare il meglio, poi i nostri buchi vuoti ormai sono famosi, quindi, cioè non ci si meraviglia neanche noi queste cose. Le tre settimane, due settimane di stop di riposo, tra il riposo e la gara già anticipata, vanno un po' condizionato, fatto ripartire un po' più con calma, oppure? Sì, l'umore è quello che è, cioè ti rilassa un pochino, fai magari allenamenti un pochino più blandi, più tranquilli, e quindi, però ecco, questo non deve essere assolutamente per tutto il motivo, no, questo no, questo no. Ok, grazie mille Emily. Grazie a voi.